A Tejesensky, destra sfiora a Stefanini, c'è il fallo se lo mancarella, l'arbitro non lo fischia, Radicchio, Radicchio fermato da Papi. E' un disimpegno di controllo e dimessa per il Nazzolo. Fattuto, attenzione, Parentino, ottimo pallone per Giorgi, Erbozzi, Palmisano, la rosa si distende in avanti, Palmisano fermato, ma potrebbe esserci il calcio d'angolo, non è così, Iezensky salva e mette in fallo laterale. Batte De Giorgi. Ora che spiove in aria di testa sfiora Montemurro, poi Aloisio, per Stefanini, anticipo di Anglani, che in qualche modo riesce a controllare il pallone, cerca Palmisano, ma esce l'Altamura, palla al piede, Radicchio sulla sinistra, troppo largo, dimessa per il Nardò. Mister Aramovicio al tempo. Montrone dietro per Montrone, Montrone lungo a cercare Caporale sulla sinistra, Caporale riesce a mettere il pallone al centro, Bozzi non ci arriva, lontana Lucci, quindi Fiorentino dovrebbe girarsi. Lo fa per De Giorgi, poi mette in fallo laterale Aloisio, Nardò che prova a spingere. Cambio nell'Altamura. Entra Tranghi ed esce Castoro. Tranghi? Cavaliere. Dove deve essere Castoro. Il 3, Cavaliere. Ah, il 3, Cavaliere, Cavaliere. Esce Cavaliere. Il 3, Cavaliere, il 3, Cavaliere. Il 3, il 3, il 7. Il 3, il 7. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.